Si è scatenato un putiferio su un post, poi rimosso contenente un fotomontaggio della premier Giorgia Meloni in un carcere con la scritta Quasi mi sento a casa mia, ci sono tutti i miei colleghi. Il meme era a commento di un'intervista rilasciata alla fiera dell'auto dal ministro Raffaele Fittu ad Antena Sud, ma pubblicata sulla pagina Facebook del comune di San Michele Salentino. Ad aggravare il tutto, almeno secondo gli esponenti del partito della Meloni, il fatto che l'autore del post sia un operatore socio-sanitario che lavora anche con l'ente. Sbotta Luigi Caroli, presidente provinciale di Fratelli d'Italia Brindisi, che chiede al sindaco Giovanni Allegrini di prendere provvedimenti nei confronti dell'internauta in attesa di possibili denunce. Stiamo valutando con i nostri legali, dice Caroli, per cui il commentatore ha dato l'etichetta di delinquenti al presidente e a un esponente del governo.